I giocatori sono posizionati come da modulo di gioco prescelto. Vi sarà sempre un centrale difensivo, due esterni, un mediano, una punta e un trequartista. L'esercitazione consiste in un fitto e continuo scambio di passaggi tra le salve, a uno o due tempi di gioco, con continuo interscambio di posizione, eseguendo a piacimento le fasi di gioco che sembrano più adatte al momento. Il giocatore che verticalizza per il compagno all'esterno, il primo della fila opposta, segue poi la corsa ed esce dal gioco. Quello che riprende la sequenza invece entra e vi dà il via a quella nuova, mentre tutti i giocatori al centro si riposizionano. L'esercitazione non prevede sequenze definite, ma i giocatori si adatta alle chiamate dei compagni. La sequenza che sta riguardando risulta essere il frutto del lavoro di tutta la stagione. La sequenza che sta riguardando risulta essere il frutto del lavoro di tutta la stagione. La sequenza che sta riguardando risulta essere il frutto del lavoro di tutta la stagione. La sequenza che sta riguardando risulta essere il frutto del lavoro di tutta la stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.